È un giorno molto importante perché sappiamo tutti quanto rappresenta il 18 Safar per la comunità senegalese ma soprattutto per la comunità murido. Qui davanti a noi c'è la sorella Monica Lazzarini che ha chiesto di diventare musulmana in questo grande giorno davanti a Serincea. Io lascio il microfono a Serincea per procedere alla cerimonia. Deve parlare con lei, dirvi delle raccomandazioni e delle parole che deve ripetere. Magari vuole che io ripeto in modo in italiano in modo che tu capisca bene quello che vuole dire. che vuole dire deve ripetere. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Questa frase significa che da questi istanti lei è entrata nella religione musulmana. Sei diventata musulmana. Benvenuta sorella. Connozzi, iscritti, 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 il nostro canale è l'islamo. la carriera giulia uor azaka e la shahada quello che hai fatto ora questi cinque sono i cinque pilastri dell'islam quello che resta dice quello che rimane c'è qualcosa che raccomanda l'islam c'è una surra che dice Dio dice e quelli che dobbiamo dare la surra dice che questa surra dice elenca le otto particolarità delle persone che devono ricevere la zakat e su queste otto persone quelli che sono appena entrato nella religione fanno parte che 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 che